Di Maria quaggiù cammineremo insieme a te verso la libertà Quando qualcuno ti dice nulla mai cambierà Lotta per un mondo nuovo, lotta per la libertà Vieni oh madre in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù Cammineremo insieme a te Di Maria nostra grande malattrice, mia madre Calziano Ecco vorrei ringraziare in modo particolare quelli che hanno realizzato questa opera Che è l'impresa Fratelli Vessicini, l'impresa Schiaroli che ha aiutato a realizzare il piedistallo Quindi Bruno Perzanti per quanto riguarda perché la stessa immagine e lo stesso pilastro È stato realizzato giù allo scaro Fabio Limpieri, Daniele Sisti, Luigi Sbuglia, Danilo Anselmi Poi vorrei ringraziare anche Nadia Muscadelli perché ha realizzato il leggio con il libro Con l'aiuto di Laura, il libro fatto in carta pergamena Dove è scritta, trascritta la preghiera che abbiamo fatto oggi Per ricordare il 17 maggio del 2009 Questo leggio è posto sotto l'immagine la statua della Madonna che abbiamo in chiesa E per cui la ringraziamo E senz'altro dobbiamo ringraziare la proprietaria di questo terreno Che si chiama Raganicchi, Amalia e Pietro E in modo specialissimo il comitato degli esteggiamenti col suo presidente Che ha donato una statua della Madonna, una di queste La seconda statua è stata donata da una prefattrice che ha voluto mandere a mano Ecco, con buona gratitudine, benedicendo e ringraziando tutti che hanno realizzato questo Alla Madonna e a loro un applauso Grazie a tutti 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.